Musica Interruzioni tutti i giorni, un'ora prima, nuova stretta ai consumi d'acqua per i comuni serviti dallo schema Basento Camastra, situazione sempre più complessa, disagi in vista per scuole, strutture, sociosanitarie, attività pubbliche. E a complicare la situazione sono naturalmente le perdite d'acqua, come quella segnalata dai residenti del quartiere di San Lorenzo a Melfi, dopo mesi d'attesa a QL ha avviato i lavori di riparazione. Oggi pomeriggio allo stadio Zaccheria di Foggia, funerali dei tre giovani tifosi vittime dell'incidente sulla potenza Melfi. Via Vai commosso al palazzetto prezioso dove è stata allestita la camera ardente. Assistenza agli anziani e servizi sociosanitari in Basilicata nel focus sulla situazione socio-economica della regione contenuto nel rapporto Anteas, presentato a Potenza su iniziativa della CISL. Basket femminile di Serie B dopo i successi in Coppa Campania, la Basilia Potenza firma anche la prima vittoria in campionato. Le Rosso-Blu si sono imposte con un netto 89 a 45 in casa del Rende. Buon pomeriggio dalla nuova TG, vi ritrovati a questa prima edizione del nostro telegiornale regionale. In apertura, lo ascoltavamo dai titoli, c'è ancora l'emergenza idrica. Da oggi dunque al via il nuovo piano delle interruzioni deciso al tavolo tecnico regionale che si è riunito ieri, sospensioni un'ora prima nei 29 comuni serviti dallo schema Basento-Camastra che rimarranno senza acqua tutti i giorni dalle 18.30 alle 6.30, eccetto il sabato quando la chiusura è prevista alle ore 23. Nella speranza che questo fine settimana possa arrivare l'attesa pioggia, problemi soprattutto per le scuole, le strutture sociosanitarie e le attività pubbliche. Sentiamo Mara d'Isola. Rubinetti a secco tutti i giorni dalle 18.30 alle 6.30 del mattino seguente, eccetto sabato quando lo stop all'erogazione dell'acqua scatterà dalle 23. Si è a potenza che negli altri 28 centri serviti dallo schema Basento-Camastra. Diventano operative a partire da oggi le decisioni prese ieri al tavolo tecnico in regione, coordinato dall'assessore Pepe, con il responsabile della protezione civile di Bello, l'amministratore unico di Acquelle Andretta e i delegati di Aspe Asme dell'ufficio scolastico regionale. Le criticità maggiori riguarderanno infatti proprio le scuole a tempo pieno, oltre 5.000 alunni, ma anche le strutture socioassistenziali per anziani e fragili. Ospedali e carceri invece sono serviti da reti idriche autonome. Danni economici inoltre per ristorazione e strutture ricettive con servizio serale, ma anche palestre e piscine, centri estetici e parrucchieri. Una situazione irrisolvibile solo con la pioggia, attesa a partire da domani. In caso non dovesse piovere in maniera generosa, dalla settimana prossima potrebbero entrare in vigore nuove restrizioni, con sospensioni dalle 16.30 o addirittura dalle 14.30. Il tavolo si riaggiornerà mercoledì prossimo, 23 ottobre. Intanto le manovre straordinarie di prelievo da parte di Acquelle sono già iniziate con la messa in funzione del camastrino, mentre settimana prossima saranno messe in esercizio le due pompe installate a bordo dello zatterone galleggiante. Al momento il livello dell'invaso si aggira intorno ai 2 milioni di metri cubi d'acqua, in corso una valutazione sul fondale della diga per una stima più precisa. E a complicare la situazione sono naturalmente le perdite d'acqua, come quella segnalata da tempo dai residenti del quartiere di San Lorenzo a Melfi. Sebbene non tempestivi come ci si attendeva, a cui dottor Lucano ha avviato i lavori di ripristino della rete. Sentiamo Vittorio Olaviano. Se nelle case dei cittadini dell'area nord di Basilicata, salvo casi eccezionali, non vi è mai stata una sospensione idrica permanente, nonostante una siccità come non la si ricordava da anni, ciò lo si deve alla ricchezza di acqua di cui è pieno il Monte Vulture. Tuttavia la rete idrica sotterranea per la conduzione dell'acqua nelle case è decisamente deteriorata e necessiterebbe di un imponente lavoro di riqualificazione. Questo sistema fognario e per le stesse acque bianche, così datato genera tuttavia delle perdite costanti che in un periodo di mancanza dell'acqua così evidente diventa uno spreco insopportabile. Ecco perché segnaliamo con soddisfazione i lavori di riparazione che tecnici di Acquedotto Lucano hanno avviato in pieno centro storico a Melfi, dove a partire da Vico Madonnelle fino a via San Lorenzo da mesi si perdeva acqua senza soluzione di continuità. Compito di una redazione giornalistica non è solo quello di segnalare dei disservizi, ma come nel caso specifico anche di segnalare che un ente come quello di Acquedotto Lucano sovente sotto accusa per altre situazioni di emergenza in questa situazione è riuscito comunque ad intervenire sulla tempestività. Ci sarebbe qualcosa da ridire ma tutto è bene, ciò che finisce bene e quindi molto presto nelle case della zona di San Lorenzo a Melfi l'acqua tornerà a scorrere con regolarità, le strade torneranno asciutte ed a questo punto l'auspicio è che possano tornare a bagnarsi ma solo di pioggia naturale. In questa storia a lieto fine un plauso va fatto anche all'amministrazione comunale che con il vice sindaco Castaldi e il consigliere Fontana hanno quasi quotidianamente sollecitato i vertici di Acquedotto Lucano per intervenire in Vico Madonnelle. Identica insistenza andrebbe esercitata anche per Viale Aldomoro e per alcune zone di contrada Bicocca dove problemi analoghi vengono segnalati dai cittadini ma intanto l'emergenza di San Teodoro presto sarà risolta. La procura di Potenza ha disposto una perizia cinematica sui veicoli coinvolti nell'incidente costato la vita domenica scorsa a tre giovani tifosi del Foggia sulla Potenza Melfi che si trovavano a bordo di un minivan guidato dal padre di una delle vittime e ora indagato per omicidio stradale. Nel pomeriggio i funerali allo stadio Zaccheria. Sentiamo Fabrizio Di Vito. Una perizia cinematica i cui risultati saranno consegnati entro i prossimi 90 giorni per ricostruire nel dettaglio la dinamica del tragico incidente costato la vita domenica sera ai tre giovani tifosi del Foggia di 13, 17 e 21 anni in seguito all'ennesimo gravissimo incidente verificatosi sul tratto iniziale della Potenza Melfi. Questo l'ulteriore passaggio investigativo disposto dalla Procura di Potenza per chiarire tutti gli aspetti legati al tragico schianto che ha coinvolto tre mezzi. Dopo lo scontro frontale con un'auto che procedeva in direzione opposta a bordo una famiglia di vaglio composta da quattro persone che non hanno riportato gravi conseguenze fisiche infatti il minivan sul quale viaggiavano le tre vittime aveva impattato contro l'autobus che stava riportando a casa altre decine di supporter pugliesi che avevano seguito la loro squadra del cuore nella trasferta di Potenza. Ieri mattina intanto presso l'obitorio dell'ospedale San Carlo sono state effettuate le autopsie sui corpi di Samuel del Grande, Michele Biccare e Gaetano Gentile. L'esame autoptico era stato disposto dalla Procura nell'ambito del fascicolo aperto per omicidio stradale che vede scritto nel registro degli indagati il padre di una delle vittime, l'uomo che si trovava alla guida del minivan. Restano ancora gravi purtroppo le condizioni di altri due giovani supporter foggiani di 15 e 18 anni ricoverati in rianimazione all'ospedale San Carlo di Potenza. Nel pomeriggio di ieri le salme dei tre ragazzi hanno fatto rientro in Puglia con la camera ardente che è stata allestita presso il palazzetto dello sport prezioso di Foggia. Oggi alle 16 allo stadio Zaccheria saranno celebrati i funerali dei tre ragazzi. A Foggia sarà lutto cittadino. Le tifoserie di ogni parte d'Italia hanno già annunciato la loro presenza. Alle sequie sarà presente anche una delegazione del Potenza Calcio che in questi giorni non ha mai fatto mancare il proprio sostegno ai familiari delle vittime e dei feriti. Un'intera città si fermerà per rendere omaggio alle tre giovanissime vite spezzate dall'ennesima tragedia della strada. Ci sono volute oltre dieci ore per domare il vasto incendio che ha interessato la discarica dei rifiuti solidi urbani a Sant'Arcangelo. A lavoro due squadre dei vigili del fuoco giunte dai distaccamenti di Villa D'Agri e di San Chirico Raparo e supporti anche dalla centrale di Potenza, ancora sconosciuta l'origine del rogo. La crisi automotive verso lo sciopero di domani a Roma, organizzato dai metalmeccanici di CGL Cislewil, le cui delegazioni partiranno dalla Basilicata per partecipare alla mobilitazione nella capitale. Alla manifestazione però non aderiscono Fismic, UGLM e AQCF che puntano il dito contro le altre sigle sindacali di settore per aver interrotto un percorso unitario nella trattativa stellante intrapreso da mesi. Fismic, UGLM e AQCF nella giornata di domani terranno presidi paralleli a Potenza, Napoli, Torino, Cassino, Atessa e Bari. Intanto l'avvertenza è approdata ieri in terza commissione consigliare del Consiglio regionale di Basilicata su iniziativa della Will, che ha sollecitato il sostegno dell'esecutivo Bardi e dell'Assise Lucana la manifestazione di domani indetta a difesa del comparto automobilistico italiano e dell'occupazione. Ancora lavoro con l'avvertenza appesa ad un filo. Dopo il presidio di lunedì si attende la convocazione del tavolo in regione richiesta dai sindacati per scongiurare la liquidazione della società in house della provincia di Potenza e il licenziamento dei dipendenti coinvolti nel progetto Caldaia Sicura. Sentiamo Isabella D'Andrea. Si complica l'avvertenza PEA, sindacati al fianco degli 11 lavoratori per i quali è scattato il licenziamento. Nulla di buono dunque dal presidio di lunedì scorso in piazza Mario Pagano a Potenza in occasione dell'Assemblea dei Soci. I segretari generali della CGL Vincenzo Esposito e della Will Vincenzo Tortorelli hanno chiesto all'assessore regionale all'ambiente Laura Mongiello, al presidente della provincia di Potenza Cristian Giordano e all'amministratore unico di APEA Anna Lisa Ala la convocazione urgente di un incontro per definire il percorso per la salvaguardia dei livelli occupazionali della società partecipata della provincia. L'obiettivo è quello di scongiurare la fine di APEA che svolgeva per conto dell'ente il monitoraggio e il controllo degli impianti termici nell'ambito del progetto Caldaia Sicura. A partire dal 2023 la società in house non ha più operato a causa della mancata formalizzazione del contratto di servizio da parte della provincia, quest'ultima intenzionata ad aprire ad altre proposte attraverso il bando di affidamento. APEA che da 21 anni si occupa della produzione di servizi rilevanti con addetti che vantano esperienza consolidata, si ritrova oggi alle prese con il risanamento delle perdite. Per CGL e Will ci sono ancora margini per salvare la società attraverso il percorso avviato in Viale Verrastro che punta alla cessione di un ramo d'azienda di APEA nei confronti di una controllata della regione. Intanto la società si dice pronta a versare la cauzione necessaria alla sottoscrizione dell'affidamento esterno per il servizio di accertamento documentale e ispezione degli impianti termici della provincia di Potenza della durata di tre mesi, passaggio quest'ultimo che consentirebbe di mantenere i livelli di operatività ed occupazionali necessari alla sopravvivenza. La mobilità per lavori di manutenzione programmati da rete ferroviaria italiana tra le stazioni di Ponte Cagnano e Battipaglia dalle 19.50 del 19 ottobre alle ore 6.50 del 21 ottobre prossimo la circolazione ferroviaria sulla linea Napoli-Centrale-Salerno-Battipaglia-Sapri-Cosenza subirà modifiche per i treni regionali, intercity e freccia rossa. Attivato il servizio bus tra Salerno-Ponte Cagnano e Battipaglia, tra Salerno e Battipaglia Potenza Centrale e viceversa e Napoli-Centrale-Battipaglia e Potenza Centrale e nei percorsi inversi. I posti disponibili sui pullman che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione al traffico stradale possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. si consiglia dunque di valutare la pianificazione del proprio viaggio. Tutte le informazioni sul sito trenitalia.com o al numero verde gratuito 889 2021 e alle biglietterie delle stazioni. La situazione socio-economica della Basilicata nel contesto nazionale con un focus sulla condizione degli anziani e sui servizi socio-sanitari in Basilicata. Questo è il tema al centro di un report realizzato da Anteas e presentato a Potenza, un lavoro che si mette a disposizione della politica attraverso elementi significativi per orientare azioni che contribuiscano allo sviluppo sociale. Sentiamo Celestino Benedetto. Un quadro di contesto regionale, la condizione della popolazione anziana e le politiche socio-sanitarie in Basilicata. Un segnale alle istituzioni che parte da larghe fasce di popolazione sempre più ampie, che pur non trovandosi in situazioni di marginalità estrema, esprimono bisogni sociali legati alla cura, al sostegno socio-psicologico, al supporto sociale relazionale alla prevenzione e al contrasto delle povertà. Un contesto che riguarda da vicino anche la Basilicata. Parte da queste premesse il report dell'Anteas di Basilicata, dal titolo Società, Welfare, Persone e Comunità, presentato al Polo Bibliotecario di Potenza nel corso di un convegno sul tema Le politiche sociali in Basilicata per una comunità più inclusiva. Questo spaccato di oggi è la conclusione di un report che ha fotografato la situazione in Basilicata di quelle che sono le peculiarità, la solitudine degli anziani in Basilicata. Quindi dobbiamo invertire la tendenza, cercando di coinvolgere quanto più possibile le istituzioni locali e regionali. Un messaggio che rivendica attenzione verso problematiche socio-sanitarie, dipendenze, salute mentale, disabilità e che guarda soprattutto ai pensionati e alle cure sanitarie. Rivendicare la presenza della sanità sul territorio, dobbiamo permettere a tutti quanti di accedere a questi servizi quindi è necessario riformare ed avere una sanità territoriale presente sul territorio in modo tale da alleggerire le continue presenze presso i pronti soccorsi, presso gli ospedali che vanno a intassare e che non risolvono la questione. Potenziare i servizi sociali e promuovere la cura delle relazioni umane resta il principale obiettivo come sottolineato dal Presidente nazionale di Anteas, De Biase. Pensiamo che le istituzioni potranno utilizzare anche questo strumento per mettere in campo iniziative importanti perché noi vogliamo essere antenne sociali, vogliamo stare vicini alle persone ma anche far sì che si promuovano iniziative di solitarietà e di vicinanza nei confronti di chi è più solo, di chi è più debole. Veniamo al progetto Barriere Zero Potenza per Tutti, promosso dal Forum dei Giovani. In soli due mesi il logo è stato consegnato a più di 50 attività commerciali che lo hanno esposto per indicare l'accessibilità alle persone con disabilità. Per rispondere positivamente al progetto in alcuni negozi sono stati effettuati interventi strutturali. L'obiettivo è continuare senza sosta, sensibilizzando la cittadinanza e gli esercenti sull'importanza dell'accessibilità e promuovendo un vero e proprio cambiamento culturale. Flavio Olita e i ragazzi del Forum dei Giovani di Potenza, seppur consapevoli che il percorso sia ancora all'inizio, non si dicono del tutto soddisfatti della risposta ricevuta finora, in quanto sono tante le attività del centro storico e delle zone limitrofe della città non ancora accessibili. L'iniziativa proseguirà nei prossimi mesi con l'obiettivo di coinvolgere un numero sempre maggiore di esercizi commerciali, di cui l'invito a scrivere alla mail forum dei giovani chiocciolacomune.potenza.it per la consegna della vetrofania realizzata nell'ambito del progetto. Matera si dota di un altro polmone verde al servizio della cittadinanza. Partiranno a breve i lavori di riqualificazione del Parco Urbano Comunale Macamarda-Tigual, Campo Scuola con un restyling conservativo e rispettoso del progetto originario. Il progetto prevede l'installazione di nuove giostre e una riproduzione ludica della balena giuliana. Tutte le specie arboere presenti saranno preservate come pure l'attuale area giochi nella quale sarà ripristinato il tappeto antitrauma. Materiale naturale sarà utilizzato per i nuovi sentieri di collegamento con quelli già esistenti. Si procederà al ripristino dei pergolati metallici utilizzati con installazioni didattiche e istruttive per i bambini. Intorno al parco saranno eseguiti interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico. Accessibilità favorita dal parcheggio di via Sagarat. Il progetto rientra nell'ambito del piano disposto dall'amministrazione comunale che interessa tutti i parchi della città. E siamo allo sport con il basket femminile di serie B. Dopo due turni di Coppa Campania, la Basilea Potenza firma anche la prima vittoria. In campionato le rosso-blu di Cocciorto e Notar Francesco si sono imposte con un netto 89 a 45 in casa del Rende. Sentiamo Salvatore Colucci. Prima vittoria in campionato per la BCC Basilicata Gruppo Macchia Basilea Potenza. Sabato, nell'esordio del campionato interregionale di serie B, in trasferta a Rende, è arrivata una larga vittoria per 89 a 45. Una partita dominata e condotta dall'inizio alla fine per un gruppo, quello rosso-blu, guidato da Laura Aortu e Aldo Notar Francesco, che ha messo il turbo già nel corso del primo quarto, chiuso con il punteggio di 25-12. Nel secondo quarto, la differenza tecnica e la maggiore esperienza porta le potentine a viaggiare sulle ali dell'entusiasmo e su un risultato che si allargerà sempre più, fino al 49-21 che porta le squadre alla pausa lunga. Unica nota negativa, l'infortunio ha corso a Giulia Mancuso, che ha preso una botta alla gamba. Alla fine, solo uno stiramento dello sciatico. Le leonesti riescono con precisione ad incrementare il vantaggio sul più 30, che chiude la terza frazione. Nel corso dell'ultimo quarto, a giochi fatti, è tempo di far ruotare a tutte le giocatrici, dentro anche le 2009, Tia e Amaraci. Non cambia nulla nemmeno negli ultimi dieci minuti, con il vantaggio per le Lucane, che rimane sempre largo, e rende che cerca quantomeno di diminuire lo scarto. Alla serena finale, 89-45, il punteggio conclusivo, che sancisce la prima vittoria in campionato delle leonesse rosso-blu sul parquet calabrese di Rende. È tutto per questa edizione, la prossima alle 19, grazie per l'ascolto, arrivederci. Grazie a tutti.